Subito un avversario di valore per il Bari, subito un confronto fra due pretendenti alla promozione. Non è un caso che l'incrocio fra i Biancorossi e lo Spezia sia uno dei due posticipi della prima giornata del campionato di Serie B. L'attesa gara in programma al San Nicola alle 17.30 sarà il prologo di un pomeriggio domenicale insolitamente dedicato alla cadetteria. Per la squadra di Nicola una prima verifica alle ritrovate ambizioni indotte da un altro mercato roboante ma ora attese dalla prova del campo dove i tanti arrivi di grido dovranno farsi squadra. Cinque l'indisponibili fra i padroni di casa da Contini squalificato a Puskas e Boteng impegnati nelle rispettive under 21 oltre ai giovani di scuola Inter Camarà e Don Corri infortunati. L'abbondanza però non manca consentendo al tecnico un ampio ventaglio di soluzioni soprattutto offensive. L'assetto di partenza dovrebbe essere il 4-3-3. Guarna fra i pali, linea difensiva con Sabelli, Di Cesare, Tonucci e Del Grosso. Mediana di sostanza con Porcari, Valiani, Romizzi. Quest'ultimo promosso capitano per l'occasione. Tridente, forte di Maniero, De Luca e uno fra Rossina e Sansone. I due che dovrebbero garantire imprevedibilità e fantasia nella metà campo avversaria. Non escluso però che possano partire entrambi dalla panchina in un improbabile piano B con Valiani avanzato in attacco e defende inserito a centrocampo al suo posto. Di fronte ci sarà uno Spezia che ha modificato poco e bene un telaio che già l'anno scorso è valso i playoff. Mancherà in difesa terzi appiedato anche lui dal giudice sportivo ma in attacco ci sarà Calaio a far da terminale nel 4-2-3-1 disegnato da Bilica. E ad accogliere due squadre che non fanno mistero della propria voglia di A ci sarà un pubblico già da massima serie con il numero degli abbonati che vi ha già spedito verso quota 10.000 previsti non meno di 20.000 spettatori in un San Nicola a misura anche di famiglia. Allestito in Tribunesta un apposito spazio per bambini con staff di animazione e un'area per la prima infanzia. Uno stadio per tutti con l'auspicio di una stagione da protagonisti.